Zoe, oggi giocheremo il capitolo 2 di Rainbow Friends, sei pronta? Sono prontissima, andiamo, Spreezer! Oh mio Dio, ma siamo all'interno di una foresta! Eh già, guarda quanti siamo! Ma chi è questo tizio? Oddio, è buffissimo però! Aspetta, la sta prendendo... Cos'ante? Oh cavolo... Oh mio Dio! Guarda come sono pronti! Guarda che bello, Zoe! Abbiamo le scatole, ci possiamo trasformare in delle scatole! Ah, è vero, così loro non possono prenderci in teoria, dico bene? Esatto! Ok! Bisogna anche abbassare! Qua c'è una zona per curarsi, è praticamente una sorta di parco divertimenti! Ah! Ah, arrivo! O no! Onde sei andata? Che vogne! Oh, già non mi piace, siamo entrati per due secondi e già siamo in un punto abbastanza stre... Ma che cos'è questa? È acqua! Un fiume! Oddio, sembra Melma, sai? Sembrano tipo gli scudini di Fortnite! Ok! Oh, andiamo a vedere! C'è un po' divertimenti che è una fabbrica! Cosa? Oh! Oddio, funziona! Aspetta, magari troviamo una lampadina qua sopra! Oh, no! Non mi fa! Non c'è! Ah! Ok! Ah, mi sa che dobbiamo andare a cercare! Sì, sì! 5 su 25! Dobbiamo cercare altre 20 luci, quindi! Oh, ne ho trovata una! E vai! Molto bene! Ma dove dovrei metterla? La devi portare da qualche parte, forse! Sì, sì! Ah, forse dovrei tipo smetterla! Oh, guarda, c'è un'altra qua! Ah, non posso prenderne più di una, evidentemente! Oh! Mi sono preso il tipo! Ma come ha fatto? Può prendersene di più, allora, lui! Boh, io la volevo io! Oh, ne ho trovata una! Oh, bene! Vediamo, prova! Eccola qua! Cos'è questo suono? Oh! Find the light bulb! Oh, lo dobbiamo portare al laser tag! Laser tag plaza! Ok! E dove cavolo si trova? L'avevo visto! Vieni! Ok, ti sto seguendo! Oh, c'è blu! C'è blu! Oh! Oddio! C'è questo qua che ti possiamo mettere qua? Eh, sì, però non c'è per me! Aspetta, mi nascondo io qua! Ok, mi sono nascosto! Vedo sotto a te! Aiuto! Oh, cavolo, guarda! 16 su 25! Oh, no! E' confiato! E' passato davanti a mezzo, eh! Ok, posso uscire, secondo te! Non lo so! Andiamo dalla parte opposta dove è andato lui! Ma dove sei? Beh, ero... Eccomi qua! Ok! No, 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 non è andato verso quella parte! Lui è andato verso quella parte, Zoe! Eh, ma dobbiamo andare qui! Possiamo fare un giro diverso? Eh, non lo so! Io sento i suoi suoni! Eh! E' qua, qua, qua! Oddio! Mi nascondo! Ma andiamo dall'altra parte? Eh, te l'ho detto io! Oddio, guardate le persone che scappano! Oh, mamma mia! È entrato! Oh! Zoe, dove ti trovi? Io sono nascosta, è qua vicino! Ah, era il castello di blu, quello dove eravamo dentro! Su, guardami! Sono sopra il ponte, mi vedi? E io vedo anche che c'è verde qua! Ecco qua! Ok! Ho messo la luce! 22 su 25, ne mancano praticamente tre! Ma non trovo il laser tag! No, devi ritornare indietro, è allo spawn praticamente! Oh, wow! Aspettate, ma ho utilizzato questo fune! Ma io ho trovato un posto, wow! Oh! Ho utilizzato una fune che mi sta portando... Ah, no! Voglio cadere, voglio scendere! C'è verde vicino lì! Ah! Ci sta un coso che mi segue! Cavolo, cavolo! Sono in un laberinto stranissimo! Ci sono delle mani che mi seguivano! Io ti giuro... Oh, no! C'è verde, mi sa, da qualche parte qua vicino! A me ci stanno sia il verde che il blu! Oh, no! Ci mancano solo le ultime due luci! Aspetta, ma qua qualcuno c'è entrato? Oh, che posto strano! Ah, è in questo laberinto! Mi sa... Cos'è questo suono? Ah! Dio santo! Che paura! Zoe, c'era un tizio nel laberinto! Comunque, me ne manca solo una! Mi sa che praticamente uno di noi lo andrà a prendere! Vieni al laser tag! Sì! Guardate, che bello! Peccato che non possiamo usare queste pistole per sparare! Oh, abbiamo finito! Ho visto il tizio che dava la luce! Che facciamo con questa luce? Oddio, il simbolo di Batman! Dobbiamo trovare un modo per andarcene via di corsa! Magari questa cosa ci potrebbe aiutarci per andarcene di qua! Non lo so, onestamente! Sembrerebbe essere tipo... Una cosa che ci permette di scapparcene via e rompere il muro! E mi sa... Oddio, guarda quante persone che ne sono morte! Zoe! Oh, no! Ok, sempre che questa mappa dobbiamo cercare adesso il gas canisters! Pronta? Dove li troviamo? Io ne so! Cerca e li muoviamo insieme! Vieni! Oddio! Che cosa è quel coso? È giallo! Oddio, guardate ragazzi! Questa mappa è veramente bella! Ci stanno un sacco di posti dove possiamo andare! E quello sta utilizzando un cavolo di... Oh, no! Aspettate! Oh, no, no, no! Oddio, l'ho visto! L'ho visto! C'è il gas canister! Ma ci sta Megocart! Non ci credo! Ah, facendo così praticamente non mi faccio sentire dal tizio! Ci sta male! Ci sta Megocart funzionante! Zoe, mi immagino che mancava poco! E mi prendeva! Non lo so, io so solo che sto giocando con i go-kart! E forse non dovrei farlo! Magari se mi metto la scatola a provare non pre... Non, ma pre... Mi sono morto! No! Ma come è possibile? Scusa! Ma sono morto davvero? Ah, dai, fammi respawnare! Che scatole! Ah, sono qua! Oh, Gesù Santo! Ma c'è il green proprio qua vicino! Ok, me ne scappo via! Bella! Ok! Ciao, Sbri! No, no, ho capito ancora! Ah, ma davvero? Sì! Ma non andare lì! C'è il verde! Vieni con me! Dai, andiamo a cercare i gas! Forza! Ma sei scema! Oh no! Cosa ti sta facendo, Dio? Mi ha leccato la faccia! Ma perché sei andata addosso a lui? Ma non comprendo il tuo motivo! Che mi è venuto addosso! Ah, no, eri andata di fronte a lui! Dovevi seguire me! Ok, bene, almeno questo! Ok, senti, guarda, praticamente il dove sono morto è proprio di fronte qua! C'è un tizio che continua a correre! L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! Via, via, via! Ah, mamma mia, ci sono riuscito davvero questa volta! Bastava semplicemente fare il veloce! Ok, adesso lo riporto indietro dove sta il razzo e gli metto questa cosa addosso! Speriamo che il verde non è qua di fronte, però! Eh, fratello dovete trovare ancora un sacco! Sì, infatti, uno su quindici, porca miseria! Perché sei stata ferma? Dovevi metterti a cercare il gas! Ma perché pensavo che non mi ammazzava! E invece... Oh, la scatola! Oh mio Dio, sento il suono di questo tizio io intanto! Ok, bene! Ho preso... Oh, guarda! Dove ci sono... Oh! Oddio! Speri, attento! Ok, non mi ha visto, non mi ha visto! Sto andando via! Non ti ha visto, non mi ha male! Ok, dai, ne mancano solo due! Forza, ragazzi! Ne mancano solo due! Adesso io me la campero qua e faccio fare gli altri! Sarebbe veramente da egoisti e da pezzenti! Oh, ce n'è una con il cuoccio in mano! Ok, sai cosa? Voglio provare ad andare in un punto della mappa in cui non sono già ancora stato! Vai! Secondo te dentro la ruota panoramica c'è tipo qualcosa? Andiamo a vedere! Boh! Oh, ti aspetta! Ma secondo me sono dei punti per scappare! Dici? Ah, hai ragione! Così almeno non vieni preso quando sei nella ruota panoramica! Beh, effettivamente qua non c'è nessun gas! E se cado da qua... Ah, non posso cadere! Guarda, si chiude addirittura! Che figata! Vabbè, direi! Vediamo un attimo qua ragazzi se c'è qualcosa dentro i gonfiabili! Ah, guardate! Ah, così vedi posso praticamente nascondermi facendo così! Ok, qua non sembrerebbe esserci niente! Oh, no, niente! Niente di niente! Oh, aspetta! Ma forse è dentro la cascata? Che posto è questo? No, no, niente! Non serve a nulla! È solo per nascondersi! Ok, mi sa che loro lo sfrutterò! Ok, usalo, usalo! Ok, bene, battere via! Certo, una scatola sotto una cascata sotto un masso! Non è che siamo... Ok, è molto strano, è molto strano! Non so minimamente dove posso essere andato! Oh, ci sta verde qua vicino! Davvero? Oh! Oh! Oh, ce l'abbiamo fatta! E vai, uno di noi l'ha messo! Let's hope this works! Ok, speriamo che funzioni! Ah, romperà la porta! Boom! Oh! Ma? Eh? Oh, no, ha spettuto la testa! Cosa ci fa lì sopra? Ma infatti, come ha fatto? No, se non lo sei tu! Ah, ok, dobbiamo trovare praticamente quelle palline di testa di... Di blu! Oh, porca miseria! Per salvarlo! Ok! Ah, Zoe, sei ancora dentro! No! Sei morta! Come l'ho detto! Sono rimasto io e altre tre persone! Cavolo, dobbiamo sbrigarci allora a trovare le altre teste! Con le teste! Sì, adesso vediamo se riesco a trovarli velocemente! Oddio, ho già visto blu! Mi sa che sono molto più arrabbiati rispetto a prima, Zoe, lo sai? Vabbè, direi! Oh, mi sa, aspetta, magari trovo da qualche parte una... Oddio, è qua! Oh, no! Oh, cavolo! Ok, sei andato via! E io sto cercando un attimo la palla, magari è qua da qualche parte! No, quello non mi pare! Però non sembra esserci, no! Ah, che scadola! Puoi prendere il go-kart se vuoi! Oh, vero, posso prendere il go-kart! Ah, proviamolo! Sì, prima ci stavo giocando! Ma vediamo! Wow, che figata! Oddio, ma fanno il suono tipo di un tosa erba! Magari sono dei tosa erba! Beh, può darsi! Ok, bene, ritorniamo indietro! Magari speriamo che no... Oddio, ho visto un'ombra strana! È lì, è lì, è lì! Trovo forse un'altra palla? Vai! No? Eh, però non capisco ancora come faccio a non farmi vedere da sto tizio! Perché, vedi, continua subito a seguirmi! Ah, ok, ok, no, ho sbagliato! Vabbè, comunque, vado di sotto! Ok, vediamo cosa trovo qua! Ah, no, qua c'è il labirinto! Oh, la palla! Oh, vai, vai, vai! L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa! Corri, corri, corri! Mamma mia! Vai, 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 vai! Cavolo, cavolo, devo ritornarmi indietro! Ok, io vado a posare adesso la palla all'inizio! Oh! Ma vanno un suono stranissimo! Fatto! Ok, perfetto! È vero? Sei su dieci! Mamma mia! Esatto, ne mancano quattro, Zoe! No, ne mancano quattro! Amincerò per te, mia cara! Ok, cerchiamo, continuiamo a cercarla! Oh, eccola! Un'altra palla! C'è proprio che ti ha corso addosso a posto! Sì, vero? Mamma mia, grazie mille, pallina! Sì, sono qua, prendimi! Infatti! Ok, adesso sbrighiamoci e portiamola indietro! Corri, 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 Ah, lì c'è verde! C'è verde! Sento il suono del giallo, dell'elica! Cavolo, l'uno solo me ne manca! E il timer? Ti dico se c'era qualcun altro! Ah, c'era un'altra persona! Ah, la sta portando indietro? Eh, più o meno! Come più o meno? Perché più o meno? È fermo da qualche parte, forse sta cercando di arrivare! Oh, no, no, non dirmelo, ti prego! Ok, la sta portando, la sta portando! Ah, ok, meno male! Ok! Dov'è, dov'è? Non lo so, è dentro la cosa dove ci si nasconde quello in mezzo, tipo la cacupola! Sì, la vedo! E poi c'è un'altra camperata lì! Frigati! Eh, guarda, gli ho messo fretta, vedi? Ah, meno male! Oh! Oh, dai! C'era una tipo a camperata con la scatola! Oh! Oh, è sceso così! Ora esplode! Ora esplode! Ok! Eh, dovete trovare le torte! Ok, va bene, va bene! Faverebbe di tutto per una pe... Eh, per una pezza di torta! Per una pezza di torta! Ok, va bene! Quindi praticamente... Oh, no! Oh? C'è un altro mostro! C'è azzurro? Esatto! Ciano! Ok! Eh, vabbè, ciano! Mi chiedo come... Perché è così tanto interessato in questa coccinella! Esatto! Ok! Oddio, siamo rimasti... Sì, sempre nei quattro! Nei quattro, nei quattro! Oh, no, 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 no! No, 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 no! E si è fermato! Fai fermo! Non ti muovere, non ti muovere! Oddio! No, no, no! Oh! Mi è passato al passo! Oh, mio Dio! Ma che fortuna! Perché allora verde l'ha ucciso? Boh! Forse perché verde solitamente apre le cose che stanno attorno a lui! Ah, boh! Eh, beh, vuoi darsi! Verde non ci fa i cavoli suoi! Oddio, lì c'è il giallo! Dai, 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 dai! Ok, c'ho il zucchero! Devo ritornare indietro! Te lo dico io, non ce ne sono mai! Ma che, ma c'è il giallo, ma sei scema! Ah! Bella, 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 bella! Oddio, c'è pure il blu, mannaggia! Vedo che sono un po' stupidi, vedono le... Le scatole che si muovono! Scatole muovono! Non vedono me! Beh, ok! Ok, bene, ci sono! Ok! Tutto è normale, sì! Una scatola che si muove! Sì! Infatti, infatti, è chiaro! Ok, vediamo un attimo se magari qua qualcuno se l'è scordato Vediamo Comunque, sempre nel labirinto ce n'è sempre una Assurdo, c'è una tizia che cammina tutto il tempo con la scatola addosso Ma perché lo fanno? Ok, qua non c'è Ah, no, ma siete rimasti in vita solo tu e l'altro tizio E l'altro tizio non ha niente Quindi vai, sbri, trova gli altri zuccheri Oh, no, 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 ok, 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 va bene, va bene Oh, no Prego, passa pure Che scatola gentile che sei Sì, sì, veramente Oh, ce l'abbiamo fatta! E vai, creiamo questa buonissima torta dunque Ok Oddio, ma dove sta andando? Se sta andando a prendersi la torta, no? È andata a mangiarsi la torta Ma che strano E adesso, continua ancora No, siamo rimasti in due E te l'ho detto Sono rimasto io il veterano Questo è il finale Oh, è il finale? Sì, dovete scappare Oh, no, non dirmelo, ti prego L'ultima volta che sono scappato in un gioco del genere siamo morti E abbiamo dovuto rifare tutto da capo Esch, vai, continua, continua, corri Ma ci stai inseguendo da dietro? Non capisco Non lo so, tu corri Ok Io seguo il tizio allora Ah, dovete salire qua Ok, andiamo Bro, sali Ok, eccolo No, cavolo Praticamente sono in una rotaia E adesso mi sa mettermi a schivare le cose Oh, ora ti vedo Ok Ok Vado Ok Ok, quindi praticamente Ah, devi seguire Sì, la strada giusta Ah, le frate di voi Il gioco Quello là, esatto Vai a destra Ti va a destra Oh, ho capito Ok, ok E che tizio va a destra? Però, devo far andare lui davanti Perché lui è il veterano Oh, dove vuoi andare? Beh Magari in un posto dove non muoio Quanto è lenta questa rotaia comunque in tutto questo? Eh, un bel po', un bel po' Sono le testoline lì sopra Ok, andiamo un po' più veloci Che devo fare? La prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo Niente, non posso prenderla Oh, ma c'è un buco o sbaglio lì? Dove? C'è un C'è un buco, è vero Oddio, oddio Sono pronto Destra Oddio Mi stai inseguendo Zoe Oh, no C'è il mostricetto che mi insegue Ti vedo tipo Ti vedo tipo in ritardo Ah, wow Oddio Oh, bellissimo Oh, cavolo Ok, ok Devo stare attento A girare per bene Lava turn back Forbidden No, no, come la lava Oddio Attenzione Che figata Dungeon head Turn back Seriosi, turn back No, non voglio andare indietro Vado in alto Oddio, 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 oddio Oddio, ma è velocissimo No, io non la farei mai Sinceramente una cosa del genere Oddio, che strano Giro questa cosa che fa Ok Bene Ok, dobbiamo andare a destra Oh, no C'è il rosso C'è il blu, voglio dire Madonna, sono dal tonico Andiamo Oh Breezy, ma che cosa? Che significa che è stato trovato? È morto Mi sa che è sbagliato strada Ma come è sbagliato? Oddio, a sinistra Quindi sei vivo solo tu Vai, via, a sinistra Oddio, vai Vai Vai, vai Sarò l'unico a vincere questa sfida Oh, grazie per aver visitato Ok, andiamo a destra Ok, andiamo a destra Sì Ciao, bello Garage Che significa garage? Oddio, dove sto andando? Ah Oh Oh, che cosa? Ho sbattuto la testa Aia Oh Oh, no Oddio Oh, no Ciano Oh, cavolo, cavolo Che devo fare? Che devo fare? Devo correre via Scappare Corri, corri Oh, mamma mia Oh, mamma mia Oh, mamma mia Scappa da Ciano Oddio, è buffissimo come cammina però Ha tipo le gambe corte Oh, non lo guardo Non voglio guardare neanche Oddio Sembra sdentato di Dragon Trainer Eh, però lui i denti ce li ha È vero, è vero Lui i denti ce li ha Cavolo, scappa, scappa, scappa Ecco Vai, vai E vai Sì Ah, ci sono È riuscito, bello Ma sembra carino A te lei via Fuori alle scatole E gli avrei fatto una carezza, sinceramente È tutto coda quella cosa, hai visto? Capitolo 2 Eh, sei sopravvissuto Cioè Sei sopravvissuto solo tu, Sbri Vero, perché l'altro è pure morto Se ti è piaciuto questo video Vai a guardare questi altri video Che sono appena comparsi Iscriviti al canale E noi ci vediamo in un prossimo Noi prossimo video Ci si becca